Dopo le esperienze dei colleghi che ho sentito apprezzato anche perché anche loro fanno capire come in realtà dopo ognuno deve una volta che ha preso le basi poi metterle in pratica in base ai pazienti che ha e all'esperienza che ha, quindi le lezioni servono sempre questi contri qua per poi stimolare in voi la capacità poi di utilizzare al meglio questi come poter trattare la patruccia? Abbastanza frequente com'è il vomito del tenista, la piccola di lì. Ecco, dicono la patologia frequente e usuale anche perché è importante capire che come tutti i farmaci noi dobbiamo usarli per la grande maggioranza delle patologie senza pensare di avere l'arma che è la migliore per le patologie rare perché il 90% delle persone che arrivano all'ambulatorio hanno patologie di per se comuni e sono quelle che noi dobbiamo trattare in particolare. No, vediamo come poter trattare le piccole di lì. Questa è l'anatomia dei muscoli? No, è l'anatomia dei muscoli. 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 E non d'accommentare la problematica che dal collo arriva in perifera. È l'anatomia dei muscoli. Se abbiamo problemi radiculare. se abbiamo un problema radicolare e l'activazione di queste radici è pronta alla contrazione dei muscoli e l'activazione è pronta alla scezione di scezione e la problematica è un problema con l'inserzione dove i muscoli si inseriscono quindi se io ho tratto solo il punto dolente anche con il medico device anche con il medico device può migliorare però può darsi che questo miglioramento non si mantenga nel tempo lo stesso che succede utilizzando ad esempio il cortisonico lo stesso che può succedere anche con il cortisono perché cosa fa il cortisono? si inseriscono questa zona per un periodo di tempo perché il cortisono che? il cortisono che? il cortisono in questo momento снимa la spagione una qualche volta ma la catena causale cioè il problema non è stato tolto l'origine ma l'effetto è simile a quello del placebo l'idea di base è quindi quello di trattare anche una patologia così semplice in modo più globale quindi è l'idea l'idea la cadena potenza uscina la cadena con il litio con il litio o con il litio l' forehead tennisista in questo caso è la cadena la cadena cittura con il litio e poi il discorso che avevo già detto all'inizio questa mattina trattare sempre il collo questa cosa che sembra e non c'è una connessione tra questo collo e in realtà sappiamo che abbiamo proprio una continuità anatomica in realtà sappiamo che abbiamo proprio una continuità anatomica quindi quando il paziente vedete che posso trattare nello stesso momento velocemente io praticamente одновременно posso abbracciare le muscoli qui e poi trattare la muscolatura del collo questo tipo di trattamento è una cosa che chi fa la medicina manuale chi fa la terapia manuale lo sa benissimo perché è una problematica a livello ad esempio di C6 della sesta vertebra cervicale 6 позвонoc cervicale può dare proprio una problematica anche a livello dell'epicondido e quindi vedete il trattamento che deve essere comunque sempre non guardare solo dove c'è dolore ma vedere la causa quindi la ricerca ad esempio dei punti dolenti sempre importante poesco, обнаружение болi vecchie questo è sempre molto importante non sono solo muscolari ma anche sono ad esempio non sono solo muscolari ma anche sono ad esempio del periosteo e periostalne anche nadcosnice vediamo quella dopo e dei trigger point ad esempio come vedete ci sono quelli triggerne tocche questo ah si è il mio a livello della della pelle del muscolo e del periosteo con caratteristiche con caratteristiche diverse ognuno dall'altro e allora potremmo utilizzare quindi potremmo utilizzare un medical device diversi in base a il fatto che il punto dolente sia sul periosteo o sulla cuta rispetto al muscolo in зависимости ad того dove bollewa tocca находится tolli in mese tolli tam che nadcosnice comunque la ricerca dei punti dolenti è una cosa secondo me molto importante quando facciamo terapia del dolore in questi paesi in любом случае in нашей terapii poesce e обнаружение bollewa tocca è molto importante adesso io ho preparato gli altri slide sono stati qualche domanda questa mattina просто были вопросы сегодня в утреннее время поэтому io e решил добавить di solito sono abituato ad utilizzare tutto io quindi riesco a rispondere in tempo reale però qui abbiamo la possibilità обычно la possibilità io se ho in l'am l'acqua in l'am l'acqua dell'acqua l'acqua po' l'acqua 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 Grazie a tutti. La prima è bianca. Questo è per il problema cervicale. Anche qui l'importanza non solo del muscolo, ma ad esempio di trattare il legamento cervicale. E qui anche il problema non solo del muscolo, ma anche di trattare il legamento cervicale. Ad esempio dopo una distorsione cervicale, avrò dei punti dolenti muscolari, ma anche dei punti lungo questo legamento vado l'ove. Quindi questo è un punto dolente da trattare, ad esempio, nei problemi cervicali. Si sente se fanno male e si tratta. Ok, la prossima. La prossima. L'altra possibilità, abbiamo visto quei pazienti che trattavano l'elevatore della scapola a questo punto, che è un punto spesso dolente. Sono importanti spesso nei problemi della spalla anche trattare questa muscolatura quale. Quindi quando abbiamo un problema di spalla, anche qua? La spalla o la spalla? La spalla, la spalla. La spalla. Il paziente ha dolore della spalla, inizia a muovere la spalla in modo non corretto. Quindi spesso è bolivata la spalla di spalla della spalla. Quindi i potenti trattare con il midi masca, non solo con il spalla, la spalla o la spalla? Quindi con il mediamente trattare con il midi masca diccio e inizia a spalla? e triggerные точки bolivie rombovidne rombovidne e trapezie e trapezie e trapezie ma spesso ci sono dei punti trigger anche se sono vaspinato da inattivare ma spesso ci sono dei punti trigger anche se sono vaspinato da inattivare ok, questo è un punto spesso dolente nella spalla ok, questo perché oggi è riuscito qualcuno per le tenue siloviti per i problemi della mano e il sindrome di Decker-Ven è possibile utilizzare anche in questo caso il collagene con varie metodiche qui è un tipo di iniezione che si può fare con il collagene in questo caso si può utilizzare io coprendo sempre per l'utilizzo veramente dell'MD tissue che è quello che mi dà molte risposte più importanti рекомендую in questo caso M-D tissue perché io ho già visto che c'è una reazione che è sempre possiamo andare con il collagene anche perché spesso è difficile entrare in la spalla perché perché spesso è difficile dentro di un'articolazione che è difficile di trattare perché bisogna arrivare in profondità che può essere trattata con il medico e c'è la possibilità di usare di usare di usare di usare quando c'è una sindrome dolorosa c'è una bursite di cranto болi sindrome bursite o quando ci sono queste problematiche sulla bandelletta iliotibial band banda iliotibiale muscolo iliotibiale o quando tibiali le muscole sono trattate anche in questo caso qua se trovi un punto trigger qua il punto è trigger ed è muscolo tu usi M-D muscle anche se sei a livello dell'angra e tut M-D muscle nesмотря na to che rечь idet o vidre a esli здесь trigger la точca iliotibiale che il tessuto non è tanto più muscolare ma è più fasciale usi M-D tissue tut M-D tissue tessuto perché abbiamo visto che i medical devices sono tessuto specifici cioè sono specifici per il tessuto quindi noi usiamo questi vedi in depend di tessuto Questo, ad esempio, nella sindrome della bandelletta iliotibiale, che frequenta negli esportivi. Так, questo iliotibiali problemi. Qui puoi trattare la zona dolente. T.е. тут можно больной участок arrabattare. Però vedi, se ad esempio non c'è la musculatura a monte, il contratto e tratti anche il muscolo. Non c'è la possibilità di arrabattare la musculatura. Ah, questa è la zampa d'oca. Ah, questa è la zampa d'oca. Ah, questa è la zampa d'oca. Anche in questo caso qua agisce molto bene il trattamento con gli MD quando c'è il dolore proprio qui della zampa d'oca, che è una problematica non solo dello sportivo, ma anche dell'anziano. E' una cosa pratica, secondo me, adesso non so se anche voi fate questo tipo di infiltrazione. Quando tratto queste problematiche. Ne знаю, come у вас. Вот, quando я такими проблемами занимаюсь. Di solito io faccio una infiltrazione che trovo il punto più famale, più dolente. Quindi, io ho trovato il punto più dolente. Inieto metà fialla lì. E poi mi sposto a fare come a stella. E poi mi sposto a fare tutto attorno, senza mai uscire però, senza rimanere. Questo è un effetto meccanico del lago. E in più di stimolazione di migliori. E in più di stimolazione di migliori, più stimolazione di migliori e collagini. E in questo caso posso usare MDN? Sì, posso usare MDN, però se sto trattando il tendine e il tessuto così... Io metto come opzione terapetica anche MDTissue, perché io con l'effetto è un effetto. Possiamo andare... Cioè anche in... Sì, sì, sì. Non solo quello, ma anche quello. E questo è un'immagine che visto che oggi è uscito il problema del tendine d'Aquille... ... su cagli oggi, come si è piuttosto, non sono 5 milimetri. Quindi, ci sono 2,2 milimetri tra la superficie della punta e il tendine. Quindi, quando io trattavo un tenin da kille con un agudo 4 milimetri. Quindi, se io prendo un 4 milimetri con un agudo con un agudo, e uso il medico device, e uso il medico device proprio dove andare. E in questo caso, anche in questo caso, è importante uscire le succherie, ma spesso guardare per le sole. E bisogna uscire le succherie, ma anche se non ci sono altri. Ok, ok, ok. Quindi, puoi trattare il punto dolente qua. Se la fai in due modi, è più facile. Se la fai in due modi, è più facile. E in questo caso, io spesso guardo, se non c'è la muscolatura con un agudo. che spesso può mantenere la sintomatologia. quando abbiamo la distorsione dell'anca. quando rastrazione dell'anca. che è una patologia abbastanza frequente. E' una patologia abbastanza frequente. E' una patologia abbastanza frequente. E' una patologia abbastanza frequente. e ente, quindi, accogdiamo attraverso ognuno dell'anca. il legamento anteriore e poi faccio a ventaglio dispongo tutto il collagene la prossima è così questa mattina così per dare risposta grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i aspetti, come come fosforo-calicii, il obiettivo, che è attuale per osteoporosi, perché osteoporosi è una cronazione di rispettura, che è un'occhiato, con il rispettura, 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 con il rispettura. Grazie a tutti i nostri posti. Soriazica. Ну, косвенным образом. Да, там у них с суставами есть изменения, могут быть изменения у таких пациентов. То есть, если говорить о боли, о болевых ощущениях, да, это может подействовать. Но на структурную причину, на основу. Мы говорим о пироартикулярной, пускулярной части. Мы должны посмотреть, как оно действует. Хорошо, спасибо. Александр Николаевич, есть единичный опыт работы с псориатическим артритом по протоколу ГУНа. По протоколу ГУНа лечения псориаза. Там берется интерлекин 4, интерлекин 10 и интерлекин 11. То есть, это протокол современный лечения псориаза. Попробуйте при псориатическом артрите, понравится. Вопросы еще? Нестероидные противовоспалительные глюкокортикоиды. Когда вы применяете их с препаратами коллагена, как они взаимодействуют? Насколько взаимодействие их может быть как бы негативным? Еще о чем? Это кортизон вы имеете в виду? Да, и НПВС, там диклофенак и так далее. Это когда тем же, при помощи того же шприца вводятся? То есть, оно не противоречит... Я понимаю, что желательно их не применять. Но если все-таки применяем, они не противоречат им диколагену, работе и так далее. То есть, это все-таки препараты, которые как бы бочный эффект нарушают синтез коллагена. А мы даем коллаген. И как бы вот нет ли противоречия здесь? Значит, если человек перорально принимает противовоскалительные средства, и терапию коллагенную, то есть, если в тот же шприц... Понятно. Второй вопрос. Вот острейший период спортивной травмы. Что вы еще, кроме указанных препаратов, применяете? И потом на этапе реабилитации, для ускорения реабилитации, что вы применяете? То есть, острейший период, а потом на этапе реабилитации, что он применяет для ускорения реабилитации? Полноценные препараты реабилитации, что он применяет для ускорения реабилитации. Значит, по протоколу международному, причем, в случае с травмами спортивными, perché si vede che dopo questo periodo la cicatrizazione dei tessuti quindi in questa fase qua invece può usare in questo momento la fase può usare il medico device perché ci sono un'attività come abbiamo visto prima dopo le giorni in tessuto le giorni in tessuto le giorni 48-72 giorni dopo le giorni 72 giorni poi in tessuto le giorni poi in tessuto le giorni poi in tessuto le giorni in tessuto le giorni e per accelerare la realizzazione quello come abbiamo visto siccome quando fai realizzazione la fine producci collagene lo faccio quindi la fine quindi la fine la fine Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.